È stata una partita veramente lottata su ogni pallone, loro grande squadra, primi in classifica, in Serie A, ci hanno messo in difficoltà ma è uscita fuori la forza del gruppo, siamo stati in partita fino alla fine, complimenti a chi è giocato dall'inizio, a chi è entrato, a chi sta fuori, siamo un gruppo splendido.